Io parlo napoletano, scusate, è una delle battute di Filomena Marturano, ma è anche il titolo di uno spettacolo teatrale dedicato ad Edoardo De Filippo. In verità la mia piccolissima carriera nasce dieci anni fa, quando da ragazzino amatoriale abbiamo messo su proprio Filomena Marturano di Edoardo in napoletano. Per l'occasione mi ero trasferito a Napoli per due stati consecutive per imparare un po' il dialetto. A distanza di dieci anni ci ritorno non con un testo di Edoardo ma con una drammaturgia originale sul pensiero di Edoardo sull'intero suo percorso artistico. In scena il 20 e 21 marzo a Teatro Vignola di Polignano, nel circuito del Teatro Pubblico Pugliese, lo spettacolo è una prima regionale con la speranza che possa essere portato in giro. È promosso da Eposteatro, associazione che vede dentro molti polignanesi con una sfida ambiziosa, fare cultura sud. Il pensiero filosofico di Edoardo è al centro dello spettacolo che mette in risalto le differenze tra lingua e linguaggio, una sorta di comunicazione difficile ai tempi nostri che sarà impreziosita dalle musiche originali di Paolo Messa e dai costumi di Romero Riccaldo. È un modo per conoscere il personaggio Edoardo attraverso i suoi testi, attraverso alcune dichiarazioni che lui stesso ha rilasciato, abbiamo preso, abbiamo creato una drammaturgia partendo proprio dalle interviste che lui ha rilasciato alle riviste di settore dell'epoca, alle prefazioni dei suoi libri, alle poche apparizioni televisive dirette. Cosa c'è da imparare? C'è da imparare la storia di un uomo, c'è da imparare a ridere, ridere di se stessi, di quel riso che passa per il cervello, come direbbe De Filippo. Spero che non si fai 20 anni, non si fai di questa nuvolità.